Si chiama Isabella Gonzales, è una bellissima influencer spagnola, quindi il suo nome è Isabella, pronunciato in spagnolo. Ha molti follower su Twitch e Instagram e fa delle dirette streaming con i fan che ne ha tanti. E purtroppo si è verificato un episodio veramente bruttissimo, infatti un turista sarebbe apparso seduto dietro a lei e l'avrebbe importunata usando una mano. La ragazza si è girata di scatto e ha rebetto di allontanarsi, di tenere le mani nel suo posto, i fori avevano visto tutto e poi ha denunciato il ragazzo alle attualità competenti di benidormo, ci troviamo in Spagna. Insomma, la ragazza stava facendo una dieta streaming, si è avvicinando a Gusturi, l'ha importunata toccandogli il corpo, senza che lei effettivamente volesse. Forse Gusturi era ubriaco, da come si è leggero su quello. Insomma, la ragazza ha preso giusti e corretti provvedimenti, infatti non si è fatta scappare l'occasione di quale l'arrivo mai pronunciare l'uomo in cui sia. Vi ringrazio tutto scopo, vi aiuto a me, iscrivetevi come te, ciao a tutti.